Da bianco e nero a colorato con GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi coloreremo una foto partendo da una foto desaturata, cioè in bianco e nero. Quindi condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Intanto ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale perché avete tanti, tanti, tantissimi tutorial su vari programmi, ovviamente GIMP, ma anche Inskip, Shotcut e abbiamo iniziato la nuova sezione di intelligenza artificiale, quindi se volete essere sempre aggiornati, iscrizione e campanella delle notifiche. Allora, partiamo da questa immagine scaricata da Pixabay di questa ragazza, di questo viso di questa ragazza, vedete in bianco e nero quindi desaturato. Vogliamo andare a colorarla. Che colori prendiamo? Allora, il consiglio che vi do è quello di prendere una foto simile, colora ovviamente con colori e di andare a campionare quei colori. Quindi ho scaricato un'altra foto di un viso di un'altra ragazza, sempre da Pixabay, quindi andremo a prendere i colori di questa foto qui e andremo ad applicare su questa. Quindi, e ovviamente il risultato dovrà essere una cosa di questo genere, ok? Quindi partendo da così, arrivare qua. Quindi andiamo intanto a utilizzare diverse tecniche. Allora, la prima, intanto ovviamente andiamo a duplicare il nostro livello di base e lo rendiamo invisibile in modo da fare sempre delle variazioni non distruttive. Quindi andiamo a lavorare sul nostro livello visibile. Andiamo prima a colorare la maglietta. Allora, vi consiglio di, dove si può fare in maniera abbastanza veloce, vi consiglio di usare direttamente il pennello. Nelle altre parti, magari potete andare nelle parti più difficili, andare a campionare con, cioè andare a selezionare con lo strumento tracciati che vi mantiene anche, ovviamente, il tracciato, quindi potete selezionarlo più volte anche se fate degli errori. Allora, iniziamo ad esempio a colorare la maglietta. Utilizziamo lo strumento tracciato, così ve lo faccio vedere. Allora, la cosa che dobbiamo fare è creare un nuovo livello. Lo creiamo, trasparente, lo chiamiamo colore, trasparente, ok? E lo mettiamo qui. Andiamo ora a prendere, vedete, la zona della maglietta. Ovviamente dobbiamo andare a essere il più precisi possibile, cose che io ovviamente non farò perché sarò veloce. Quindi voi dovrete poi andare a fare un lavoro di questo genere, andare a selezionare tutte le parti, vedete, della maglietta, escludendo i capelli e andando qui a fare una cosa di questo genere. Ok, bene, andiamo ovviamente a selezionare questa parte, clicchiamo su invio e andiamo a selezionare anche questa altra parte della maglietta. Quindi andiamo qui e andiamo a prendere una cosa di questo genere, andiamo a fare questo lavoro qui. Ok, andiamo qui e magari facciamo così, gli diamo una curvatura, visto che è molto tracciato, lo utilizziamo. E poi andiamo qui e lo chiudiamo con control e sul punto iniziale e clicchiamo su invio e vedete che abbiamo i due tracciati. Infatti se andiamo qui vedete che abbiamo i tracciati, io qui avevo già fatto una prova, quindi possiamo, anzi, eliminare questo, eliminare questo. Perfetto, allora vado a, allora qui ovviamente ho fatto un errore, vedete che c'è questa parte, allora come faccio? Così vi faccio vedere anche questa cosa, prendo lo strumento di selezione a mano libera e vado qui, vedete, sottrae dalla selezione corrente. E vado ovviamente a prendere questo pezzo e lo vado a sottrarre, infatti se clicco su invio, vedete che me l'ha sottratto. Allora, bene, cosa posso fare? Posso andare a dargli quindi un colore, vado qui, seleziono un colore, io ho selezionato questo verde, quindi lo metto qui e vado, vedete, direttamente così. Invece che andare a pitturare col tracciato, una volta selezionato, andate così. Ovviamente così è bruttissimo, come vedete così è proprio spennellato. Ovviamente il segreto qual è? Quello di mettere la modalità di fusione livello sui ricopri. Vedete che lui mantiene la colorazione, l'umidosità, quindi le luci e le ombre della maglietta sottostante, quindi il colore si adagia perfettamente. Ovviamente potremmo fare poi delle modifiche, ovviamente ad ogni colorazione di parte, con sia colori curve, quindi magari gli andiamo a dare un po' più di, vedete, gli andiamo ad abbassare i bassi toni e i mezzitoni, così. Direi che ci può stare e possiamo anche andare ovviamente sulla saturazione, a dargli ovviamente più o meno carico di colore, ok? Magari diamo un po' più di colore, così. Potete fare sempre col dv di vista, ovviamente andate sempre a vedere la differenza. Ok, bene, e così ci siamo. Ragazzi può darsi che io velocizzerò alcune parti, ovviamente, per non farvi perdere tempo. Vi faccio vedere la modalità, la tecnica e poi velocizzo e poi tornerò in video, ovviamente, a azione finita. Allora, dobbiamo andare a fare, come detto, per ogni livello lo stesso identico ragionamento. Quindi andiamo a creare un nuovo livello, ok? Sempre colore, sempre lo mettiamo subito in modalità ricopri. E in questo caso andiamo ad utilizzare il pennello sui capelli. Per i capelli andiamo a campionare i capelli di questa ragazza. Quindi ovviamente strumento di color picker, cioè per lievo colore. E andiamo a prendere un colore di questo tipo. Ok, direi che ci siamo, magari così, ecco un po' più marroni. Molto bene, andiamo quindi qua e andiamo con lo strumento pennello. Allora, in questo caso, ragazzi, una cosa che vi consiglio, quindi ovviamente della dimensione giusta, potete ovviamente, faccio uno zoom in, potete ovviamente con CTRL, ALT e rotellina del mouse in su aumentate, vedete il diametro della pennellata, o lo diminuite con rotellina in giù. La cosa che vi consiglio è di fare una durezza minima, veramente minima, e una forza media. Cosa vuol dire? Vuol dire che i bordi sono più sfumati se fate una durezza bassa. Infatti, vedete, se io, ora lo rimetto su, anzi, vado qui direttamente. Se io vado qua, vedete che, no, vi faccio vedere, voglio far vedere bene come funziona. Allora, metto questo in modalità normale. Allora, se io faccio così, vedete che, faccio uno zoom, vedete che i bordi sono sfumati. Se io faccio una durezza massima, vedete, i bordi sono molto netti. E in questo caso, siccome ovviamente devo andare a colorare una parte, parti diverse che si uniscono, devono essere sfumati. Quindi faccio CTRL-Z, rimetto qui modalità ricopri. Quindi, come vi dicevo, durezza minima e forza media. Quindi da non fare, diciamo, variazioni troppo nette. Bene, posso andare ovviamente, quindi in questo caso, a colorare i capelli. Vedete che se io vado a colorare, lui mi mantiene sopra, proprio mi colora, mantenendomi, ovviamente, le parti, le luci, le ombre, le luci sottostanti. Quindi velocizzerò un po' l'immagine e velocizzerò un po' il video per ovviamente non tediarvi. A tra poco! Molto bene, eccoci qua. Ovviamente io, ragazzi, sono andato veloce. Voi dovete, avete visto, dovete andare a fare zoom, diminuire la dimensione del pennello, andare ovviamente a lavorare molto di cesello. Se vi sbagliate, ovviamente potete utilizzare lo strumento gomma, cioè se sforate, e andare, ad esempio come io ho fatto qui, andare sempre sul livello che avete colorato, a togliere, vedete, a smussare ovviamente i bordi. Bene, andiamo a colorare ora gli occhi. Per gli occhi andiamo a creare un nuovo livello e andiamo ad utilizzare lo stesso colore della maglietta, così facciamo una sorta di pandan. Andiamo a prendere il color picker, andiamo a prendere questo colore qui, e andiamo ovviamente sempre con il modalità di fusione livello ricopri, con la penna, qui, scusate, con il pennello, non la penna. In questo caso possiamo aumentare un po' la durezza e la forza e andiamo ovviamente ad agire sul nostro occhio. Quindi andiamo a pigmentare, vedete, andiamo a pigmentare il nostro occhio. Con la modalità ricopri facciamo questo tipo di lavoro, quindi veramente viene molto molto bene. Ok, vedete, andate anche qui molto di cesello, andate, fate le cose, mi muovo con la barra spaziatrice, vado sull'altro occhio e vado a fare lo stesso lavoro di cesello. Ovviamente anche in questo caso possiamo agire su, per ogni livello, possiamo agire su strumento curve e anche regolazioni di saturazione, colore, eccetera. Vedete che abbiamo dato lo stesso colore degli occhi. Molto bene, possiamo andare, come vi dicevo, a regolare, ad esempio con le curve, facciamo uno zoom, andiamo a regolare, in modo che si veda anche la maglietta, eccolo qua. Possiamo andare a regolare ovviamente la luminosità, vedete, luminosità, più luminoso, meno luminoso. Andiamo a dargli questa bella luminosità verde, molto acceso. Bene, quindi abbiamo fatto capelli, abbiamo fatto la maglietta, abbiamo fatto gli occhi, quindi andiamo a dare un po' più di bianco qui, nella parte dell'occhio che è bianca, quindi di nuovo colore, che è il nuovo livello trasparente, andiamo in questo caso a dipingere di bianco. Quindi sempre con modalità ricopri, andiamo su questa parte bianca qui, quindi ovviamente attenzione ragazzi, durezza bassa e forza media. Non fate cose ovviamente troppo vistose, perché si capisce, quindi è una cosa, questo è un lavoro molto di cesello, quindi io ovviamente vado veloce, però voi fate le cose sempre lente e ragionate e calcolate, perché piccole variazioni qui veramente vi variano la percezione di quello che voi fate, quindi del risultato finale, quindi mi raccomando, fate le cose molto, quindi ogni volta che fate una variazione, andate a vedere il risultato da lontano, ok? Qui così direi che ci siamo, ovviamente così è troppo bianco, ma dopo ovviamente andremo a diminuire la luminosità. Andiamo anche qui a fare una cosa molto veloce, quindi brutta, ma va bene. Andiamo a fare una cosa del genere. Ok. Aumentare un po' la dimensione del pennello. E andiamo a colorare anche questa parte. Ok. E ovviamente ragazzi, qui facciamo uno zoom, andiamo qui, esatto, colorare anche questa parte e anche questa. Ok. Piccolo colpo. Ok. In questo caso, come dicevo, è troppo bianco. In questo caso possiamo fare, visto che c'è già la modalità ricopri, invece che fare curve, che magari, essendo bianco, avete meno effetto, dovreste andare ad abbassare questa parte. Potete fare anche così. Ma potete fare anche un'opacità. Vedete? Tentate a ridurre l'opacità in maniera tale di andare a ridurre l'effetto del bianco negli occhi. Direi che così ci siamo. Ok. Un po' più, l'occhio è un po' più luminoso. Ci rimane ora la pelle e le labbra. Per la pelle ovviamente andiamo sempre sul nostro campione, andiamo a campionare col color picker una pelle di questo tipo e torniamo sulla nostra immagine e andiamo sempre con il nostro pennello a fare il nostro lavoro. Io farò il lavoro, ci vediamo tra 10 secondi. Ok ragazzi, sono andato ovviamente molto veloce e ho fatto ovviamente diverse imperfezioni. Vedete qui nei bordi sicuramente si può fare molto meglio, ma ovviamente vi faccio capire il concetto, poi voi agite con calma. Molto importante è la bocca, quindi andiamo a creare un nuovo livello. Ok. E sempre trasparente, sempre in modalità ricopri. Andiamo a campionare le labbra, quindi color picker. Andiamo a prendere questo colore, vedete? E andiamo qui sulla nostra ragazza. Sempre pennello, sempre forza, media, durezza molto bassa. E andiamo anche qui ad agire veramente di, vedete, di cesello. Quindi andiamo a ripercorrere proprio là il perimetro della bocca, che è molto sfumato. Ok. Andiamo a colorare tutto. E poi andiamo magari ad agire un po' sull'opacità, perché così è un rosso troppo carico. Però, vabbè, utilizziamo i colori. Che I primi che ci vengono. Ok. Direi così ci siamo. Ovviamente andiamo ad agire sull'opacità. Magari gli diamo un un 5, un 60. Un po' di più, un 70. 75. Perfetto. Una cosa, ragazzi, che vi permette di fare, vedete, io qui, ad esempio, questa ciocca di capelli, vedete, non l'ho colorata. Torno, vedete, qui nella mia, nella mia parte del livello, dove ho, ovviamente, colorato, vedete, faccio con il color picker, prendo di nuovo, oppure vado direttamente qui, ed era questo, però faccio col color picker, prendo, e vado, ovviamente, a pennellare anche questa ciocca di capelli. Eccolo qua, in maniera tale. Mi raccomando, i dettagli, ragazzi, sono molto, molto importanti, vedete che cambia tutto. Ok, molto, molto bene. E anche questa parte di pelle non ho fatto, quindi vado qui, seleziono, ovviamente, faccio così, seleziono così, perché altrimenti mi verrebbe, mi verrebbe non corretto il colore, e vado a prendere, e vado a, sempre con la modalità ricopri, vado anche a prendere questa zona. Ok. Perfetto. Ora, possiamo fare, visto che è tutto colorato, possiamo fare un tasto destro, un nuovo dal visibile, in maniera tale da avere un livello unico, con tutti i livelli sottostanti, raggruppati in un unico livello. e qui vado a fare le mie perfezioni, le mie, i miei abbellimenti, quindi, magari, gli abbellimenti finali, ovviamente, possiamo fare, intanto, queste occhiaia, possiamo andare a ridurle, quindi possiamo andare a prendere il nostro strumento clona, che è questo, con una forza, una durezza minime, andiamo a prendere, vedete che c'è questo, tondo, questo cerchio, andiamo a campionare una zona vicino, tenendo premuto il tasto CTRL, e andiamo, vedete, a dare dei tocchi, per vedere andare a, a mitigare questa zona di occhiaie, partendo dal nostro, dal nostro campione, che è questo cerchio qui, vedete, quindi andiamo a mitigare un po', e dobbiamo fare un lavoro di questo genere, posso andare a cambiare, punto di, campionamento, e fare sempre un lavoro di questo genere, vado a mitigare un po' l'effetto, ovviamente lo devo fare sul livello visibile, se lo vado a fare su uno di questi, ovviamente non otterremo l'effetto desiderato, perché dobbiamo andare ovviamente ad agire sulla foto finale, stessa cosa possiamo fare qui, campioniamo questa parte, andiamo a mitigare questo effetto, ovviamente io sarò veloce, quindi mitigherò poco, ma ovviamente voi potete fare, magari anche più piccolo, potete fare ovviamente delle modifiche, potete fare anche una forza, una durezza, un pelo maggiore, se volete dare ovviamente, se essere più incisivi, ma vi ripeto, state molto attenti a quello che fate, perché ovviamente si vedrà, ok, se non fate le cose precise, ok, abbiamo mitigato un po' l'effetto delle occhiaie, possiamo andare ora a fare un colori curve, andiamo a dargli un po' più di contrasto, quindi abbassiamo i bassi toni, alziamo le alte luci, quindi proprio un pelo, e andiamo a dargli anche un pelo di nitidezza, filtri, miglioramento, nitidezza maschera di contrasto, vedete com'è incisivo, così dobbiamo andare ad abbassare, sia il, sia vedete, l'ammontare, che il radius, quindi andiamo a renderlo solo un po' più, ecco qui poi potete vedere la differenza, solo un po' più, contrastare, cioè un po' più nitido, ok, direi così, può andare, giocate con il radius e l'ammontare ovviamente, direi ok, direi molto 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 interessante, siamo passati ragazzi, da avere una foto di questo tipo qua, quindi avere una foto completamente in bianco e nero, ad avere invece una foto di questo tipo, quindi completamente completamente diverso, abbiamo anche mitigato un po' l'effetto dell'occhiaio, bene ragazzi, spero che questo video vi possa essere dato d'aiuto, abbiamo visto diverse tecniche, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero underscore ro underscore academy, se vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento, o se volete, se volete sostenere il mio canale, lasciate un super grazie, noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video, ciao e grazie a tutti.